Misure chiare, durature e stabili per il futuro del settore e una visione strategica che sia multitecnologica e multienergetica. Secondo Assotermica sono queste le condizioni necessarie per cogliere al meglio la sfida della transizione ecologica. Queste prospettive sono state discusse nel corso di un evento organizzato dalla Federata Anima Confindustria e svoltosi il 18 novembre in presenza a Roma e da remoto. Durante la prima sessione di lavori è stato inoltre presentato lo studio prestazioni energetiche, ambientali, dinamiche stagionali di generatori termici anche non convenzionali in edifici residenziali di riferimento svolto in collaborazione con l'Università di Pisa. Multitecnologia e multienergia vuol dire con l'espressione inglese che a me piace molto che one technology can't fit for all, cioè non c'è una tecnologia o una sola energia che può andare bene per tutto. Noi abbiamo dei tecnici validissimi che formati sugli impianti e sugli edifici possono rendere al meglio per chi è il decisore. Il decisore come oggi abbiamo sentito è il proprietario dell'unità immobiliare. Noi dobbiamo solo mettere a disposizione di queste persone le opportunità che può cogliere. Le tecnologie ci sono, le risorse anche, le professionalità pure, bisogna prendere le decisioni giuste. Il contributo di Assotermica è fondamentale se noi pensiamo a tutto quello che possiamo fare sulla formazione, sulla formazione dei progettisti, dei tecnici. Abbiamo visto oggi un po' di soluzioni che sono consolidate ma ancora probabilmente devono essere ben comprese e fino a fondo studiate dai nostri progettisti. Quindi parlo degli ingegneri, i geometri, gli detti, i periti. Quindi possiamo fare tanta formazione in questo senso. E un altro aspetto importante è sicuramente l'informazione dell'utente finale, perché l'utente finale le nuove tecnologie, questi nomi magari sistemi ibridi e così via non le conosce bene, le vuole comprendere. Quindi l'importante è fare formazione, farle comprendere perché di fatto non si può fare a meno di queste nuove tecnologie. Questa è la realtà. Altri spunti sono stati approfonditi nel corso della Tavola Rotonda con i rappresentanti della politica, nel corso della quale si sono confrontati il Presidente Montanini e i parlamentari Patrizia Terzoni, Tullio Patassini e Maria Virginia Tiraboschi. Si è discusso degli indirizzi per il DDL bilancio, ma anche di programmi di medio-lungo termine come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della proposta europea Fit for 55. Dalla giornata di oggi con l'incontro di Asso Termica sicuramente il punto focale su cui la politica deve raggiungere è quella di fare un mix di incentivi in base alle varie tecnologie presenti sul mercato, perché il mix delle tecnologie è quello che poi punta alla massima efficienza energetica, il minore impatto ambientale e una effettiva riduzione delle bollette. Oltre al mix di tecnologie serve anche un mix di energie rinnovabili da poter produrre con il loro relativo stoccaggio.